Una forte ondata di maltempo continua a sferzare le marche con raffiche di vento che da quasi 24 ore stanno interessando tutte le province. Oltre 170 gli interventi dei vigili del fuoco nella notte di cui 60 nelle province di Ascoli, Piceno e Fermo. A Fermignano, in provincia di Peso e Urbino, una parte di un grosso albero è caduta sulla copertura di un distributore ed è stata rimossa nella giornata di oggi con l'ausilio di una grossa autogru. Alberi caduti anche in via Fratelli Rosselli, sempre a Urbino, dove le raffiche hanno raggiunto i 120 km orari e domani circolazione vietata, veicoli e pedoni nelle zone circostanti al Palazzo Ducale per un intervento sui tetti per verificare lo stato delle tegole. Nel Fanese cavi telefonici a terra in zona Falcineto, mentre a Bellocchi un lampione dell'illuminazione pubblica si è piegato sotto la forza delle raffiche del vento, arrivato anche a 90 km orari. E sempre a Bellocchi un pino di 40 anni si è spezzato nel tronco ed è caduto sulla sede stradale, come è avvenuto anche in strada Sant'Anna per Cartoceto, dove nella notte un pino è caduto a terra. Al cimitero centrale un grosso ramo di cipresso si è staccato dal tronco principale finendo sopra alcune lapidi di Mabo. Fortunatamente non ci sono stati feriti ma soltanto danni. Nelle altre province marchegiane, San Severino Marche, strade chiuse per alberi e rami caduti, marciapieti vietati al transito di pedoni a causa di pannellature schiantadesi al suolo, segnali stradali pericolanti e cartelloni pubblicitari di Velti che hanno colpito auto in sosta. Situazione complicata anche nel Fabrianese per numerosi interventi per rami spezzati, coppie e tegole pericolanti, alberi da mettere in sicurezza e cassonetti per l'immondizia che hanno invaso la sede stradale. Transennata la zona intorno alla chiesa di Sant'Agostino a causa di alcuni coppi dal tetto da mettere in sicurezza con l'ausilio dell'autoscala proveniente da Ancona. Una ditta specializzata poi infine ha operato anche sul tetto del magazzino della Whirlpool a marischio di Fabriano interessato dal distacco di una decina di lamiere di copertura.